In occasione del giorno della memoria il Consiglio regionale in apertura della seduta del 28 gennaio ha osservato un minuto di silenzio in ricordo della Shoah e il giorno precedente il presidente Valerio Cattaneo è intervenuto presso la prefettura di Torino alla cerimonia di consegna delle medaglie d'onore ai cittadini deportati durante la seconda guerra mondiale. Nello stesso giorno al museo diffuso della resistenza è stata inaugurata la mostra Charlotte del Bo, una memoria a mille voci. La rassegna propone un percorso di analisi, di approfondimento sulla biografia e sull'opera della scrittrice a partire dagli archivi depositati alla Biblioteca Nazionale de France, uno spazio in cui immagini, suoni e parole si mescolano per coinvolgere il pubblico in un percorso di memoria. La mostra è realizzata con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione. Chi non sapeva niente deve sapere. Il guaio è che si fanno tante manifestazioni importanti, lo devolissime, però non sempre a queste manifestazioni intervengono quelli che ne avrebbero più bisogno. Il Comitato Resistenza e Costituzione è inoltre promosso al Circolo dei Lettori, lo spettacolo concerto, la memoria non è mai cimitero. I meccanismi della Shoah nella storia dell'uomo, con testo e recitazione di Marco Gobetti, chitarra acustica e voci di Dario Buccino, luci e suono di Simona Gallo. Un attore o musicista evocano lo sterminio degli ebrei e i possibili, o già accaduti, genocidi contemporanei, attraverso un'analisi che accosta le violenze mortali successe nel corso della storia, i pensieri di Hitler e tanta comunicazione politica moderna.